Ma francamente mi ha un po' sorpreso l'intervento della Marcegaglia, perché per carità è legittimo criticare ciò che non si condivide, ma non c'è stata una relazione agli imprenditori, è una relazione più adatta a un convegno di un partito politico che a un'assemblea di imprenditori. Poi per carità io ho avuto modo di rispondere per quanto riguarda le competenze del mio Ministero perché ha detto cose inesatte, ma a prescindere da questo poi quando si parla di realizzazione di infrastrutture si può fare sempre di più e meglio, dipende anche dalle risorse che abbiamo a disposizione, ma francamente è una relazione che non è in sintonia con quella che aveva fatto negli anni precedenti.